Salve e ben ritrovati dal Caio Duilio alla rubrica Medio Tempo di Navigare, sono Emma. Dopo le correnti fresche atlantiche che ci hanno accompagnato in questi ultimi giorni, la circolazione atmosferica sullo stretto di Messina cambiano nuovamente volto. Causa l'affondo artico proveniente dalla Russia e diretto verso l'Europa, unitamente ad un calo barometrico assisteremo a condizioni di tempo avverso con forti venti meridionali di Ostro e Libeccio. Sabato 17 marzo assisteremo ad una rapida variazione della ventilazione con rodazione dei venti dei quadranti occidentali, unitamente ad un sensibile e diffuso calo termico. Questi saranno causa di condizioni di marcata instabilità atmosferica, che dal pomeriggio sera potrebbe apportare qualche debole piovasco, specie nelle coste tirreniche. Le temperature subiranno un sensibile caro, con valori massimi che difficilmente supereranno la soglia dei 15-16 gradi, venti forti e diponenti, mari molto mossi o agitati. Domenica 18 marzo la situazione non cambierà molto, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino e nubi in aumento dal pomeriggio, fino a cieli molto nuvolosi con deboli pioggi in serata solo sui settori tirrenici. I venti torneranno a ruotare dal quadrante meridionale, seppur con lieve intensità, stabilizzando così le temperature alle medie del periodo. I mari si presenteranno ancora agitati o mossi. Anche per oggi dal Cagliutile è tutto, la rubrica medio e tempo di navigare vi rinnova l'appuntamento la prossima settimana.